buongiorno oggi andiamo a fare il sentiero del mason arance va ad arco e poi si sale per fare la foto salita lungo il mason arance dentro la fageta colpo d'occhio c'è linea la salita per i nostri eroi salita tutta guadagnata direi facendo già la prima caduta anche qua direi paesaggino niente male questa salitina molto piacevole che andiamo a vedere questa discesina dal mason arance cosa in servo per noi interna e un po piano piano peschini va si è umida quello il problema è che è umida un po' anche dove è in piano non è che ci sia tutto sto trip è uguale è uguale è un taglietto e niente di che e lo prenda attenzione se va grande grande bello pietino a terra per lui ma che bello il lago qua mi interessa sbagliato grande grande proprio alla fine però lì è un casino si mi interessa Grazie a tutti. Grazie. E si salva, attenzione. Sbattendo qualcosa che speriamo che... No, il pedale. Attenzione a sto tubicino che rompe le palle. Ah, più da terra. C'era il muro. Bravo, bravo lo stesso. Non male. No, no, frena, frena. Lì grippa, grippa. Perfetto. Lì grippa bene. Signori, velocità. Manca di cattiveria, bravo. E non è qua, per non saper leggere né scrivere. La scappa di pedale. Ciao. Scusi, mi si è lanciato la grana. Grazie. No. 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 Grazie a tutti.